Sì, ancora così da ieri, ti abbiamo visto, ti ha sempre avuto. Sì, anche lì, ma anche lì. Ti ho visto, sapete che ti ho visto là, sui occhi, sui giornalisti. Sì, buongiorno, buongiorno. Un capitolo nuovo su tutte le false accuse che sono state mosse su Giulio, a partire dall'esposto che è stato depositato dal sindacalista Abdallah e poi le false accuse costruite a seguire dalla National Security. Grazie mille, ci vediamo dopo. Faccio. Grazie.